salve amici e amiche ben ritrovati oggi tanti argomenti anche italiani infatti parleremo anche di design italiano quindi quale immagine migliore se non partendo proprio dagli anni 60 con la mitica vespa fra l'altro questo credo che sia il modello del film vacanze romane dove sta eccolo qui il 1953 27 agosto usciva nelle sale vacanze romane ora direte sono impazzito parlandovi della vespa mi perché oggi infatti introdurremo l'argomento piaggio che non è solo famosa per modelli come l'ape e la vespa ma uno direbbe l'ape potrebbe avere un'utilità in ucraina come questo modello beh non lo so però per esempio un modello del genere forse sì ora non stiamo parlando in realtà di piaggio per la strada ma quanto per il volo a piaggio aerospace infatti mi avete chiesto informazioni su questo mitico aereo il viaggio avanti qui lo sentiamo col suo caratteristico rumore è la sua linea unica ora questo è un bellissimo aereo bisogna dirlo da un punto di vista di design è veramente unico con la caratteristica dell'ala anteriore a volte scambiata per un'ala canard in realtà queste sono due ali vere e proprie ora lo vedremo nel dettaglio e poi i due turbo elica con eliche spingenti anche questa è una soluzione piuttosto originale l'aereo è piccolo aereo per il trasporto passeggeri classe executive insomma che può essere utilizzato anche per viaggi d'affari ma fra l'altro l'italia lo utilizza anche a livello militare e per la ricognizione infatti ci sono diverse versioni anche per quanto riguarda le forze armate che lo utilizzano per vari obiettivi fra l'altro venne prodotta anche una versione drone ma di questo ne parleremo è un aereo che ha avuto un discreto successo anche nell'esportazione infatti non è solito l'italia ad utilizzarlo il principale il principale utilizzatore essere stato sono stati gli stati uniti con una vera e propria compagnia di voli charter la avanteir che acquistò 56 velivoli poi è fallita nel 2014 però ci sono anche altri paesi come il canada la polonia luganda ha un esemplare gli emirati arabi però resta il fatto che l'italia è il principale utilizzatore per questo modello che è veramente unico e bello nel suo genere ora uno direbbe perché fare un aereo a elica nell'era dei jet beh ci sono dei vantaggi nel senso è un aereo che ha dei costi contenuti rispetto alle controparti con motori a reazione perché motore a pistoni o turboelica meglio non è a pistoni scusate un turboelica è sempre una turbina però che poi l'albero va a far girare l'elica e comunque non è un motore più economico i costi di esercizio sono più ridotti però diciamo a livello di prestazioni siamo lì il piaggio avanti è un aereo dalle prestazioni brillanti credo che sia l'aereo turboelica più veloce del mondo con i suoi 730 e qualcosa chilometri orari non mi ricordo vediamo la velocità indicata 754 chilometri orari è una velocità di crociera di 711 chilometri cioè stiamo parlando di velocità molto vicine a quelle di un executive a reazione però con costi molto più contenuti è caratterizzato da una fusoliera molto elegante con questo profilo alare con queste due aletti alette frontali che in realtà sono veri e propri ali con addirittura i flaps e poi impennaggi nella sezione posteriore con degli stabilizzatori questi fra l'altro questi in coda servono per stabilizzare l'aeroplano ad alta quota hanno tangenza operativa che supera anche i 12 mila metri quindi tranquillamente un aereo in grado di di operare a tutte le quote nei parametri di qualsiasi aereo executive quindi piccoli aerei a reazione per il trasporto di via per viaggi d'affari e ma anche per altri tipi di mansioni infatti come ho detto poco fa la stessa aeronautica militare italiana lo utilizza ampiamente in varie mansioni sia l'esercito che la marina che la guardia costiera per esempio è un aereo che può dire la sua e che costa relativamente poco in termini di costo per unità si parla intorno ai 3 milioni di dollari giù di lì dipende dalle versioni e questo insomma è già un costo più contenuto rispetto ai 45 milioni di dollari di un jet della stessa classe il progetto è di alessandro mazzoni ingegnere è venuto a mancare nel 2016 che fra l'altro fu famoso anche per interessanti collaborazioni con la mcdonald douglas e la piper suo progetto probabilmente di più successo fu il mcdonald douglas pd 808 che vediamo in questa foto poi collaborazioni anche con la piper per realizzare questo turbo elica sempre in categoria turismo e poi altra collaborazione avvenne anche con la legna dove collaborò nella progettazione almeno della parte le parti dell'ala del g222 un altro aereo storico di assoluto rilievo per le nostre forze armate aereo che ha fatto la storia e sul quale sulla sulla cellula poi è stato anche sviluppato l'attuale spartan altro gioiello dell'industria aeronautica il piaggio per le prestazioni e le caratteristiche di volo è unico qui per esempio vi faccio vedere la bontà del suo inviluppo di volo questi erano già i voli dimostrativi del 1990 anno in cui è entrato in produzione e servizio una delle caratteristiche particolari delle ali in queste configurazioni con queste due alette canard che ripeto sono in realtà sono delle vere e proprie ali non sono stabilizzatori e che in prossimità di voli critici quando l'aeroplano raggiunge la velocità minima di stallo queste due ali sono le prime essendo frontali vanno sono le prime che vanno in stallo di conseguenza entrano in un regime di autostabilizzazione per cui il pilota lavorando su queste due superfici può recuperare immediatamente l'assetto di volo e lo vediamo proprio in questo esempio il pilota tira su per andare in candela e raggiunge la velocità minima in cui l'aeroplano va a stallare ora un aereo civile per definizione deve essere un aereo stabile cioè nel momento in cui entra in una condizione di volo critico in teoria il pilota senza intervenire sui comandi l'aeroplano dovrebbe autostabilizzarsi e recuperare un assetto di volo a differenza degli aerei da combattimento che sono instabili per avere maggiori prestazioni di virata istantanea e sostenuta quindi un aereo civile deve essere deve autostabilizzarsi un po' questo il principio per fare un esempio molto semplice molto spiccio un po' la differenza fra aerei civili e aerei da combattimento è che per le automobili per esempio la trazione anteriore con la trazione posteriore delle auto da corsa ok la trazione anteriore è molto più sicura più stile semplice però ecco vediamo cosa succede in queste condizioni in cui il piaggio avanti va portato in stallo è fermato in aria e lui cade puntando di nuovo il muso verso il terreno e questo permette un recupero dell'assetto di volo altra cosa che vediamo fare adesso una cosa veramente insolita per un aereo di questa classe vediamo è un tonno questo davvero è dimostra la bontà del progetto a livello acrobatico quindi assolutamente un aereo semi acrobatico ed è veramente estrabiliante come come capacità la linea è assolutamente elegante minimalista con questo profilo molto pulito e questo appunto si riflette poi nelle caratteristiche aerodinamiche dell'aeroplano lo si vede in varie angolature un'altra caratteristica per esempio tipica di questo aereo è la conformazione dei motori adesso vediamo un dettaglio che è importante che ci fa capire alcune cose vediamo dove sono preso prima eccolo questo dettaglio è sembra da poco in realtà anche questo dimostra la bontà del progetto e l'efficienza uno dei problemi principali per aeroplani di linea che non sono così veloci da scaldare le proprie superfici a causa dell'altrito dell'aria quindi hanno bisogno di particolari dispositivi per contrastare l'azione della formazione del ghiaccio per esempio sulle ali e sulle pale dell'elica questo è un grosso problema nel senso che ad alta quota in particolari condizioni di umidità il ghiaccio può formarsi e va a distruggere le caratteristiche aerodinamiche di queste componenti uno dei vantaggi del piaggio avanti è che avendo i gas di scarico che vanno a fuoriuscire direttamente sul disco dell'elica questo semplicemente in automatico riscalda il disco dell'elica quindi l'elica del piaggio avanti non può non può incontrare il problema della formazione di ghiaccio questo però ha un piccolo contro nel senso il personale è costretto a pulire le pale quasi dopo ogni volo questo è di rigore però ecco questo no ci dà un'idea che una semplice soluzione ingegneristica di elica spingente a questo vantaggio per esempio poi vediamo per esempio gli interni che in genere si presentano così nelle versioni normali per uso civile cioè hanno una conformazione da aereo di lusso ci sono diversi allestimenti vediamo se riesco a mostrarvene qualcun altro per esempio questo dipende poi sono tutti personalizzati in ogni caso se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale scusate se interrompo il discorso qui sotto al video trovate i pulsanti di youtube per iscrivervi a questo canale quindi per aiutarmi a crescere come canale lasciate mi raccomando un mi piace e poi se volete aiutarmi anche con una donazione sarebbe gradita certo se qualcuno di voi è miliardario e vuole regalarmi un piaggio avanti è gradito è un aereo che ho sempre amato scherziamo dai comunque ecco vediamo per esempio viaggiare l'aereo in quota se fate caso ogni tanto passano sopra le nostre teste in italia e fa il classico rumore da turbo elica molto acuto molto acuto poi che altro dire si presenta spesso con delle livre tipiche italiane molto belle almeno in italia ed è un aereo che è stato molto apprezzato anche negli stati uniti qui vediamo per esempio l'abitacolo molto semplice con appunto al centro nella nella plancia centrale vediamo questo è il computerino per la navigazione dove si impostano coordinate e si fanno gli allineamenti qui vediamo la doppia manetta con probabilmente anche il passo dell'elica non sono così esperto di aerei civili e piaggio avanti ve lo dico sto facendo giusto sto commentando in tempo reale basandomi su quello che vedo pannello centrale ausiliario poi fra l'altro qui vediamo immagino che siano dei selettori per la gestione del peso del carburante sistemi anti ghiaccio per quanto riguarda le ali e poi abbiamo 3 m fd quindi perché comprendono computerini di navigazione adi gps ma per il pannello centrale invece lo vedo sembra essere per quanto riguarda principalmente per la gestione di temperature e motori oltre a questo abbiamo il pannello delle spie per le emergenze per i test e questo in alto sembra essere il pannellino per il pilota automatico sembra tanto almeno di derivazione civile come avviene lo stesso presente per esempio su tanti modelli boeing o airbus in questo computerino qui sopra si possono regolare tutte le impostazioni per il pilota automatico i volantini a uso civile sembrano molto semplici con trim e altri pulsanti questi pulsanti penso che siano le due radio principali e questo è quanto probabilmente il pulsante rosso credo che sia l'intercom qualcosa del genere quindi è sicuramente un bel aereo prestazioni da paura questo è una piccola ecco vediamo ancora gli interni fra l'altro ci sono anche interni dei modelli ambulanza vediamolo qui l'avevo salvato questo è della marina questo per esempio è l'aereo ambulanza sempre per l'italia che può fare insomma un lavoro eccellente per i trasferimenti di emergenza la cabina fra l'altro venne prodotto vennero prodotti un paio di questi furono sviluppati per essere anche dei droni dove sta salvato eccolo questo è il piaggio 180 avanti due hammerhead un po hammerhead sarebbe il lo squalo martello penso che abbiano scelto questo nome apposta per la somiglianza estetica e sono stati fatti dei test un aereo andò perduto do altro perduto durante un test poi però ovviamente è stata una scelta un poco un poco infelice dell'azienda perché in quegli anni spuntavano modelli molto più economici di un aereo di questo tipo questa classe che per carità aveva il vantaggio di una grande autonomia prestazioni velocità e quindi anche capacità di carico ma per un drone la velocità non è necessariamente un fattore chiave lo abbiamo visto perché ci sono tanti droni oggi che sono molto lenti con l'enorme vantaggio che un aereo un oggetto lento e meno rivela rilevabile via radar piccolo quindi anche questo incide sulla sulla possibilità di essere scoperto via radar il fattore di carico si può essere interessante ma fino a un certo punto almeno finché si parla di droni di questa classe che non hanno grandi pretese di trasporto quindi bastano dei sensori di rilevamento non si parla di aerei d'attacco al suolo chiaramente ma di droni per la ricognizione e in questa classe per oggetti che devono fare ricognizioni aeree esiste già una marea di modelli molto molto più economici alla portata di tante nazioni che vogliono equipaggiarsi con una flotta di droni per la soveglianza poi vediamo per esempio ci sono anche altre immagini che mostrano il cockpit vediamo qui ce n'era una ecco qui in questa immagine si vedono tutti gli strumenti accesi dove vediamo appunto il computerino di navigazione per inserimento coordinate e programmi al centro in alto nelle mf di centrale abbiamo la temperature motori giri e al centro una mappa di un aeroporto insomma è un bel aereo come nella sua semplicità bene andiamo avanti poi se avete domande fatemi sapere l'argomento è vasto quello del 180 però ovviamente io mi occupo più di aerei militari e mio forte diciamo restando sempre in tema aeronautico la nasa sta continuando a portare avanti il progetto x 59 questo strano aereo che poi in realtà è la cellula parte almeno inizialmente poi è stata completamente rivisitata da un vecchio aereo l'f5 che la nasa aveva a disposizione diversi diverse cellule per fare test ed è questo qui in questa foto si vede meglio questo aereo molto molto strano dall'aspetto così avvenieristico in realtà è un aereo che un prototipo stanno portando avanti dei test con uno con l'obiettivo di riportare avanti l'idea di del trasporto civile supersonico che fra l'altro è stata abbandonata ampiamente quando poi c'è stato l'ultimo incidente del concorde come sapete è stato l'unico aereo civile supersonico della storia tolta la copia la brutta copia sovietica l'idea qual è allora i problemi che portarono alla radiazione del concorde furono essenzialmente la sua pericolosità questo da un punto di vista diciamo di complessità della macchina per cui il costo non valeva la candela ma soprattutto anche la rumorosità per quanto riguarda il sorvolo delle aree urbane tanto che il concorde in realtà poteva viaggiare in regime supersonico solo sull'oceano perché una volta transitando negli stati uniti e in europa le restrizioni per le regole del volo civile gli impedivano di fare troppo rumore il problema del boom sonico non è un problema da poco nel senso che più grosso l'aereo più fa rumore e oltre a questo c'è anche il discorso del boom sonico che si viene percepito dalla popolazione in maniera non proprio gradita possiamo dire così lo studio del di questo velivolo dell'x 59 è proprio in questa direzione cioè la sua forma caratteristica così affusolata con queste linee non ortodosse per un aeroplano ha proprio lo scopo di ridurre tantissimo il cosiddetto boom sonico che avviene per la compressione delle molecole dell'aria quindi più l'oggetto è spigoloso o in qualche modo tradizionale nella sua forma più comprime la massa d'aria a un certo punto quando si raggiunge il muro del suono causa questi cosiddetti boom quindi in questo caso la nasa sta portando avanti delle geometrie che riducono questi questi effetti già in questo caso con gli esperimenti che vengono fatti sull'x 59 si parla di una riduzione a un millesimo del rumore generato rispetto a un concorde quindi per restare poi passando avanti in tema sempre aeronautico segnalo la caduta di un altro elicottero russo e conflitto si parla del k-52 alligator questo è un elicottero molto performante nella flotta russa il doppio caratterizzato da un doppio rotore ora avevo letto nei commenti alcune volte mi pare qualcuno abbia scritto i russi sono gli unici a utilizzare il doppio rotore che in realtà è una soluzione elegante per gli elicotteri che permette una grande stabilità e ha dei vantaggi nel senso che grazie a questa configurazione l'elicottero è in grado di fare delle traslazioni laterali molto più veloci rispetto a un elicottero con il singolo rotore e quindi ha dei vantaggi non è anche a livello di prestazioni e soprattutto di efficienza del motore questo permette insomma di sfruttare meglio il motore dell'elicottero e di avere importanti prestazioni di velocità anche quindi un k-52 segnalato dal canale fighter bomber è caduto non si sanno di preciso le cause ma a quanto pare l'equipaggio non è sopravvissuto il che è particolare dal momento che questo elicottero è probabilmente l'unico che ha il seggiolino aiettabile che dovrebbe dare maggiore maggiore possibilità di salvezza ai piloti sempre per restare in tema di perdite ci dispiace ma anche no che un altro generale è caduto al fronte generale russo del quinta reggimento scusate brigata motorizzata il maggiore generale pavel climenko i rapporti a leggere questo questo articolo arrivano dai familiari quindi la notizia è confermata pare che sia caduto mentre guidava una motocicletta in battaglia quindi questo è quello che posso riportarvi ci sono diversi articoli che ne parlo e insomma non era una personcina di quelle proprio a modo sono sicuro che molti almeno in ucraina non si dispiaceranno affatto di questa di partita che dire continuiamo un altro caduto di questa guerra è questo tizio che aveva spesso fatto parlare di sé nei mesi precedenti perché ecco diciamo che è stato un rappresentante di certe idee tradizionaliste tipiche della germania degli anni 20 e 30 ma questa volta però con una uniforme russa quindi lui si faceva spesso vedere accompagnato da bandiere tipiche del periodo tedesco della seconda guerra mondiale quindi a quanto pare ha incontrato la sua fine anche lui in battaglia e si aggiunge ai 705.880 caduti in questa guerra da parte russa che mi mostro in questo schemino tanta tanta roba poi la russia comunque nel frattempo ogni notte continua a lanciare droni e missili da crociera contro l'ucraina molti sono stati intercettati questo è quello che è successo solo questa notte 4 missili da crociera kh 59 e 69 qualcosa come 92 droni shahed sempre grazie agli amicici dell'iran questo quello che avviene ok quindi sì da parte ucraina si segnala un attacco presso la refineria di petrolio a saratov che si trova fra l'altro era già stata colpita in passato questo aeroporto così distante qualcosa come 700 chilometri dal fronte presso saratov infatti passato vi avevo riportato dei danni anche al suo aeroporto che a quanto pare ha sul sui suoi piazzali dei bombardieri fra l'altro in questo aeroporto è anche presente un piccolo museo dell'era sovietica come potete vedere in cui si vedono vecchi bombardieri mig missili da crociera questo mi 21 per esempio mi 29 tu 22 su 25 su 34 su 24 mig 15 e le 39 questi sono gli aerei presso il museo comunque questa è la città che è stata colpita dai droni ucraini questa notte poi vi mostro anche l'immagine vi avevo parlato nei giorni scorsi del drone ucraino a 22 questo piccolo ultraleggero di derivazione civile è stato modificato per avere un motore molto molto efficiente quindi che gli permette grande autonomia riempito di carburante e anche con una piccola carica esplosiva questo gli ha permesso di farsi un migliaio di chilometri tre giorni fa questo è il momento del decollo è un aereo d'aviazione civile anzi praticamente volo da diporto sportivo come ho detto anche nella live su più o meno io ho volato anch'io su questi aerei su questi piccoli aerei tubi e tela quando ho preso il brevetto e grazie a questo si è fatto con questo velivolo i la 22 modificato sono riusciti ad attaccare il porto nel mar caspio e quanto pare una unità russa è stata colpita non credo che abbia riportato gran danni significativi dal momento che stiamo parlando di un aereo molto piccolo con una piccola carica quindi vi farò sapere nei prossimi giorni quanti danni sono stati causati se riuscirò a ottenere informazioni passiamo oltre notizia dalla corea del nord non una di quelle notizie diciamo vediamo se riesco a trovare le parole giuste per parlarne ma a quanto pare secondo nexta tv fonti che ormai consideriamo abbastanza attendibili i soldati coreani che arrivano in russia e che hanno accesso a internet scoprono cose diciamo che gli erano state precluse per tutta la vita e secondo voi cosa sì stiamo parlando di quella cosa lì ecco la sottolineo qui quindi immaginate dei ragazzi di 20 anni che per tutta la vita non hanno mai visto probabilmente una donna poi aprono internet e immagino che ne vengano completamente assorbiti sì questa è una notizia che dovevo riportare ora parliamo invece dell'europa di quello che sta succedendo in queste ore perché a quanto pare sulla scia di quello che di cui vi parlavo ieri ovviamente l'insediamento di trump non è ancora avvenuto ma la sua elezione ha cambiato un pochino le carte in tavola dal momento in cui lo stesso trump ha sempre sostenuto l'idea che l'europa deve pensare a se stessa su questo sono in parte d'accordo lo stesso macron oggi ha ricalcato un'idea che in francia è molto importante realtà la francia l'ho detto anche in altri video ha una politica particolare nel senso avendo subito l'invasione tedesca nella seconda guerra mondiale il loro motto è mai più non deve mai più capitare una cosa del genere quindi è chiaro che la francia non ha preso per niente bene l'atteggiamento della russia negli ultimi tre anni e anche più insomma è chiaro che non possiamo permetterci di fare di stare sugli allori e considerare solo l'europa in una logica di economica ma bisogna anche pensare a qualcosa di più questo è un po' il messaggio che ha trasmesso macron in cui appunto ha detto che in un mondo di carnivori l'europa non può essere passiva non può essere un erbivoro e insomma dobbiamo pensare a spendere qualcosina di più per la nostra difesa e poi questo è quello che vi avevo accennato anche ieri di sicuro ecco la politica isolazionista di trump un eventuale rifiuto di sostenere la nato o l'europa in generale dovrà per forza di cose trasformarsi in conseguenze non per il semplice meccanismo di ad azione c'è una reazione di conseguenza l'europa adesso si trova in una condizione particolare per cui dovrà fare fronte comune e si parlerà sicuramente di spendere soldi quindi ecco qui mi rivolgo ai trampiani italiani che probabilmente speravano in non lo so un isolamento anche un allontanamento dagli ideali europei però ecco a questo punto non penso proprio che sia saggio per l'italia isolarsi come ha fatto l'inghilterra con la brexit anzi penso che proprio in questo momento storico abbiamo bisogno di stare compatti e se si parla poi di spesa pubblica i vari i vari opinionisti italiani contro l'europa e in favore della russia che tanto fanno discorsi sui soldi pubblici sulle spese probabilmente dovranno ricredersi perché appunto con l'arrivo di trump bisognerà spendere molto di più per la difesa rispetto a quando ci davano una mano gli stati uniti fra l'altro in questi giorni c'è un importante una importante fiera a parigi per quanto riguarda lo sviluppo delle tecnologie aeronavali in cui si sono visti tanti modelli statici alcuni a grandezza naturale altri ovviamente no perché sapete è un po' difficile piazzare sottomarini e navi in una fiera quindi questi sono modelli quello che viene fuori subito all'occhio cercherò magari di affrontare anche la cosa nei prossimi giorni è che l'europa punta tanto sulla supremazia tecnologica e in un certo senso ce l'abbiamo nel senso per tanti aspetti insieme agli stati uniti l'europa oggi è leader da questo punto di vista sistemi d'arma sensori navi aerei tutto questo è il top in europa e questo primato è anche difficile tra l'altro da con una concorrenza come quella cinese che sta che sta arrivando una delle cose interessanti che ho visto in queste immagini è un po il concetto di multiruolo molto allargato anche alle unità navali che vedranno probabilmente ecco qui so che nel mio canale ci sono tanti esperti anche per quanto riguarda questi aspetti potrete confermare quello che sto dicendo però ecco l'idea è quella che non ci sarà molta suddivisione in classi delle navi come avveniva in passato ma l'orientamento è quello di sviluppare unità che abbiano più capacità multiruolo qui per esempio vediamo una soluzione per gli hangar delle della parte posteriore della poppa della nave che potrà essere in multifunzione per il carico e scarico di mezzi o a mezzi anfibi o per esempio per l'utilizzo di elicotteri da queste piattaforme oppure moduli integrati con capacità droniche per la ricognizione guerra elettronica e via così insomma unità multiruolo capaci di fare pattugliamento marittimo sorveglianza aerea scudo missilistico centri di comando e questo è un po il vantaggio di avere tutto in uno come soluzione poi ci sono anche studi sulle tecnologie stealth anche per quanto riguarda le unità navali soprattutto poi vabbè in francia c'è particolare attenzione anche alla guerra sottomarina dato che hanno speso molto negli ultimi anni proprio per potenziare il loro deterrente nucleare che si basa soprattutto solo solo sulla sul deterrente marino come sottomarini nucleari qui vediamo per esempio un battello che ha anche un mini sub per le incursioni fra l'altro vediamo abbiamo visto in queste immagini anche dei droni di ultima concezione che sono pensati per volare ad altissima quota ad alte efficienza e utilizzare anche degli armamenti guidati per attacchi di precisione questi sono missili da crociera antinave in grandezza naturale come vedete queste forme non sono forme messe lì tanto per caso ma sono queste sono tecnologie stealth profili asimmetrici che abbiamo visto anche in altri modelli come gli storm shadow per esempio questo per esempio si venom missile pensato per essere equipaggiato da aeroplani come il rafale o i vari elicotteri c'è poi particolare attenzione per esempio per i droni marini anche qui droni da ricognizione stealth come in questo caso qui si parla di un oggetto che può considerarsi stealth per ricognizioni o come questo che per esempio è un drone sottomarino è chiamato sea explorer ma qui si parla appunto di una tecnologia per la ricognizione sommersa letteralmente è un argomento molto vasto e interessante che vale la pena portare avanti quindi fatemi sapere se avete proposte anche in questo senso e andiamo avanti siamo quasi in dirittura d'arrivo un intervento anche qui sulla scia di quanto ha detto macron del segretario generale della nato mark rutte che sottolinea appunto come proprio la collaborazione di questo asse del male fra russia corea del nord e iran sta portando avanti un problema enorme se consideriamo che la russia sta scambiando queste sono parole sue la russia sta scambiando tecnologie con la corea del nord mentre la corea del nord fondamentalmente gli fornisce carne da cannone e questo è un grosso problema perché la corea del nord pone dei problemi critici pone una pericolosità in tutto il pacifico e questo appunto deve essere affrontato proprio in seno alla nato e l'europa in qualche modo deve rafforzarsi in questa in questa logica non può considerarsi solo come una parte della forza militare degli stati uniti specialmente se consideriamo proprio il fatto il fattore pacifico con la corea del nord e la cina nella logica dei se immaginiamo ecco proviamo per assurdo immaginare una situazione di conflitto con taiwan e la cina è chiaro che gli stati uniti cesserebbero immediatamente il supporto in europa per concentrarsi a eventuali pericoli nel pacifico a quel punto l'europa dovrebbe rafforzarsi dovrebbe essere pronta a una situazione del genere per fronteggiare proprio il pericolo rappresentato dalla russia bene andiamo avanti una visita una bellissima passiamo a temi un po più coccolosi a questo punto meglio passare a cose più leggere questa è una bella immagine mi è piaciuta perché mostra come zeneschi è stato accolto in una scuola ucraina a budapest sono paesi che hanno accolto moltissimi rifugiati e quindi le famiglie hanno bisogno ancora di scuole organizzate lì ed è stato accolto come un eroe io stesso mi sono trovato a roma un anno fa circolavo per le strade sono trovato sulla metropolitana letteralmente circondato da ucraini erano rifugiati che venivano smistati in diverse parti della città e eravamo ancora in quella fase altra notizia questa davvero è carinissima non ho potuto fare a meno di mostrarvela perché sì anche le superstar del web ricevono onere efficienze militari non è il primo caso perché ne ho visti altri però questo è davvero troppo carino ve lo mostro questo gatto è stato impegnato al fronte per mesi il suo ruolo non so qual è forse possono dare aiuto nelle trincee per tenere alla larga topi o anche per dare supporto emotivo ai soldati questa è la sua onere efficienza tre mesi a nulla e mi tobi vrouciamo udostruzione від частини 66 66 Ha ricevuto la Combat Service Certificate, certificato per il combattimento. E per concludere vi lascio con una storiella che è legata a una canzoncina tradizionale ucraina. E' la storia appunto di una ragazza che si rivolge a Dio piangendo e Dio gli dice chi sei perché piangi. E la ragazza dice io sono ucraina e piango perché la mia terra geme per il fuoco e gli incendi. E Dio le dice perché non sei venuta da me prima? Ho regalato ormai tutti i talenti che avevo ad altri, come posso aiutarti? A quel punto la ragazza voleva andarsene. Ma Dio alzando la mano destra l'affermò dicendo ho un dono inestimabile che ti glorificherà per il mondo intero e questa è una canzone. A quel punto la ragazza e l'ucraina prese il dono e se lo strinse forse forte al cuore e si inchinò profondamente all'altissimo e con un volto limpido iniziò a cantare. E' la storia appunto di una canzone. E questo è quanto. Come sempre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Un abbraccio. Alla prossima.